Sulla nuova Pescara decidono Montesilvano e Spoltore coalizzate come non mai per non perdere, come temono, una propria identità. Su circa 20 emendamenti presentati quasi tutti da consiglieri comunali di Pescara, ieri nell'attesa assemblea costitutiva per l'approvazione dello statuto provvisorio, la maggior parte è venuta a cadere sotto i colpi del voto compatto di consiglieri di Montesilvano e Spoltore. Da una parte il disappunto di Carlo Masci che evidenzia come la minoranza di una rappresentanza popolare, gli abitanti di Montesilvano e Spoltore insieme non arrivano a raggiungere quelli di Pescara, vada in definitiva a condizionare decisioni importanti. Dall'altra la fermezza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis che, mettendo da parte i panni di presidente della provincia, non nasconde tutta la sua contrarietà per questa fusione. Nel mezzo il tentativo appassionato del sindaco di Spoltore Chiaratrulli di predicare conciliazione e mantenere un certo equilibrio. Risultato? Non c'è forza politica che tenga tutti i 75 consiglieri comunali, ieri poco più di 50, compatti ed allineati nella votare secondo le indicazioni dei rispettivi sindaci. Morale della favola? La nuova città non si chiamerà Pescara ma Nuova Pescara. Confermati i quattro municipi, Castellammare, Pescara Porta Nuova, Montesilvano e Spoltore e 16 consiglieri ciascuno per i primi tre, 12 a Spoltore. Ogni municipio, al contrario di quanto richiesto dai pescaresi, avrà un'aggiunta amministrativa e se alla prima votazione di ieri sera non sono stati raggiunti i due terzi per l'approvazione dello statuto provvisorio, poco male perché tra la prossima assemblea di martedì 12 o al massimo quella successiva di martedì 19, la bozza sarà bella che varata nei tempi giusti così come indicato dalla legge regionale. I punti che ci dividono secondo me sono punti non qualificanti, sono punti che veramente potrebbero essere superati con grande scioltezza, naturalmente sono punti che dovrebbero essere più a tutela, come noi riteniamo, dei comuni più piccoli e quindi lo sforzo dovrebbe essere fatto di più dalla città più grande. L'aspetto negativo è che ci stanno lavorando non con lo sguardo al futuro della città nuova che deve sorgere, ma con lo sguardo al passato, con un respiro corto, con la salvaguardia delle piccole leve di potere, delle piccole opportunità di gestire questo o quel pezzo di territorio, quindi pensando alla salvaguardia personale, alla salvaguardia di gruppo e soprattutto la cosa, secondo me, la maggiore angustia è non avere messo in campo nessuna idea di ciò che la nuova città dovrà essere. Cioè noi stiamo pensando di creare quella che sarà la più rilevante città nell'Adriatico in uno scenario di grande evoluzione nel mondo barcanico, con prospettive molto significative geopolitiche, passa il PNRR e non c'è nemmeno un progetto pensato sulla città nuova. Chi dice che si pensa ancora al passato, alla vecchia politica rispetto a una visione del futuro? Assolutamente sbaglia, perché noi ci siamo limitati a costruire uno statuto che tra l'altro è stato condiviso in tutte le parti, se non a alcune questioni che ho anche ampiamente detto, che sono il nome, che sono sei assessori, che sono sei consiglieri municipali, di cosa parliamo? Tutto il resto non è stato contestato, perché evidentemente l'impianto statutario è corretto e guarda al futuro.